Un lupo e tre cinghiali, protagonisti di questo video realizzato nella prima mattinata di oggi in zona Salicuneta tra Pattano di Vallo e Castelnuovo Cilento. Un incontro particolare, ma che orarmai è sempre più frequente, fatto da un cittadino del posto che, mentre si stava recando al lavoro vicino al fiume, ha avvistato i cinghiali a poca distanza, sempre nelle vicinanze del corso d'acqua, un lupo. Nelle immagini si può notare l'animale che, curiosamente, si avvicina all'autore del video. L'uomo, giustamente, è stato colto di sorpresa da questo singolare incontro ravvicinato. In uno studio pubblicato dal WWF in questi ultimi anni, si parla proprio di avvistamenti tra lupi ed esseri umani e il WWF conferma che i lupi evitano gli esseri umani e non rappresentano un pericolo per l'incolumità delle persone. Negli ultimi anni, però, sono aumentati esponenzialmente gli avvistamenti di animali selvatici sul territorio occidentano, ma quello che ci chiediamo noi è qual è la causa che fa sì che questi incontri con lupi, cinghiali ed altri animali selvatici stiano diventando sempre più frequenti. Un sito che si occupa di questi casi, ma a livello nazionale, conferma che l'aumento degli avvistamenti è dovuto al fatto che ormai sempre più persone abbandonano rifiuti o scarti di cibo nell'ambiente vicino. Questo aumenterebbe il rischio di avvicinamento di animali selvatici, come appunto questa mattina è accaduto in località Saliconeta. Gli esperti ci ricordano che i lupi non sono un problema per l'essere umano, ma quanto può essere vero, dobbiamo sempre considerare che sono animali selvatici, carnivori, e non sappiamo mai come possono reagire quando si trovano di fronte agli esseri umani, un po' come i cinghiali. Ginghiali nel fiume è un lupo l'area, chissà che combina?